Erosione costiera e portualità diffusa, il WWF del Tirreno si incammina sulla strada dell'analisi scientifica. Una serie di incontri che inizieranno domani a Cittadella del Capo alle 17.30 con assistenti e collaboratori della Cattedra di Ingegneria Idraulica del professor Paolo Veltri dell'Unical. L'obiettivo è quello di sottolineare il rapporto conflittuale tra porti e territorio e proporre idee alternative per combattere l'erosione costiera. Dal porto insabbiato da Mantea, quello elimina scogliera di diamante, passando per il porto definito inutile ed elimina monumento nazionale di scalea, il WWF ha una lunga lista di darsene che fanno appugni con l'ambiente e la storia delle comunità. Le amministrazioni pubbliche li propongono come elemento di sviluppo e lavoro, anche se i dati del turismo nautico risultano in calo. Tornando al progetto del WWF, all'incontro di domani seguiranno a metà dicembre seminari con docenti universitari di Firenze ed esperti di ingegneria naturalistica e di urbanistica, tra cui il senatore Roberto Di Giovampaolo e Leonardo Trento, assessore ai beni paesaggistici ed urbanistica della provincia di Cosenza. Un lavoro d'equip che sarà poi esposto all'assessore all'ambiente della provincia di Cosenza, Giuseppe Aieta, ai sindaci del Tirreno, all'assessore regionale Pino Gentile, al presidente del Parco Marino di Vera dei Cedri e a tutti gli uffici delle capitanerie di porto del Tirreno Cosentino.